Iniziamo il premio della 135, il premio provincia di Udine con Niccolò Borelli e Idris Desipis. Grazie. Grazie. Abbiamo la chiusura del primo binomio senza errore dunque è subito centrato il primo obiettivo quello di qualificarsi per il barrage abbiamo subito il primo pretendente per la vittoria di questa gara Niccolò Borelli.